Sì, qua siamo davanti a delle persone italiane che stanno solamente chiedendo di poter avere un alloggio, cosa che dovrebbe essere un loro diritto, un lavoro, perché spesso chiedono anche un lavoro, ora non so se è il caso di questi, ma non vogliono essere mantenuti come gli immigrati. L'italiano hanno sempre dimostrato, anche quando sono andati all'estero, che sono andati all'estero, di abbinare i nostri immigrati all'estero con questi, si deve solo vergognare. I soldi, i 35 euro, sono nostri, non arrivano da nessuno strano ente europeo sovrastante, sono nostri. Ma chi te lo dì? Ma secondo te l'Italia può sorreggere questa cosa? Ma stai dicendo una tesseria, i 35 euro è tutto di una negoziazione fra il governo e la Commissione europea, dove gli italiani mettono la punta di quella somma, è una bugia. Non si può dire che i 35 euro sono nella Repubblica italiana. No, vi tolgo il microfono, sono state buoni. ...quartetto comunitario che rientra in questo. E quindi, pre-cortizia, vogliamo... Non volete darmi retta, quindi vado a Bagnoli, vi saluto. Vado a Bagnoli, vi saluto.